Benvenuti in un altro unboxing ragazzi Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri Ragazzi per chi non ci conoscesse siamo uno dei canali con la qualità più alta di recensioni unboxing in Italia E soprattutto raccontiamo storie di collezionisti, andiamo a casa loro, li staniamo e facciamo dei documentari Ve ne lascio qualcuno qua sopra e da poco sono diventato anche rivenditore Quindi mi arrivano le cose e ve le faccio vedere Intanto grazie a tutti quelli che comprano oggi mi è arrivato un ordine di uno Splinter Iron Studios Che uscirà a maggio 2024 e io vi ringrazio veramente di cuore Ora io non vi faccio perdere tempo, un altro per chi ci conosce questo sono arrivi che io ordino dal fornitore Un po' di ordini dei clienti, un po' di ordini miei che poi rivendo Apro, vi faccio vedere sul canale eccetera eccetera Andiamo ad aprire, mi è arrivato un pacco da Cosmic Group e uno da EO Uno da EO è gigantesco e non è su questo tavolo Direi di subito andiamo a stanare cosa c'è qua dentro Io sinceramente raga magari sono preorder di tanto tempo fa e non mi ricordo esattamente cosa c'è Tutto quello che vedete lo trovate sul nostro Vinted o su mamamelocompri.com E se non lo trovate ancora mi iscrivete in privato su Instagram Tanto tutti i social ragazzi volete contattarci e vi rispondo Allora vediamo un po' cosa c'è qua dentro La bolla d'accompagnamento non la leggo perché voglio le sorprese E vediamo, carta bellissima Sono molto contento che i fornitori non usino più la plastica Perché secondo me è una cosa molto importante Infatti i negozi che usano la plastica io li odio perché non hanno capito quanto il mondo sia inquinato Quindi io anche quando spedisco di solito uso questo tipo di plastica E sono contento così Ora Ah qua c'è un po' di robetta Ebbè ragazzi Allora Abbiamo Guardate Tre Etti differenti By Neka Questo già glielo devo ridare Questo già glielo devo ridare perché questo è arrivato così Guardate Però queste cose non si dovrebbero fare raga Cioè io sono contento che non usano la plastica No ma questo non è per la plastica Questo è proprio per l'imballaggio Faccio vedere Stringo un po' perché sennò Questa roba vedete Qua guardate questo angolo smangiucchiato Secondo loro io posso rivenderla questa così Non credo proprio E vabbè Ed è così Ok Deluxe Ultimate Etti Madonna abbiamo un sacco di cose carine Allora Deluxe Ultimate Etti ragazzi in Veneta 1 è già venduto Qua Guardate E Voilà Etti Poi un altro Etti L'Ultimate non la deluxe version Quindi abbiamo Questo che mi è arrivato oggi Poi lo trovate sul mio sito E Questo Elliot Ah questa è carina Perfetto Quindi abbiamo tre Etti di cui Questo con la scatola bella rovinata Che no bene No buono questo Questo decisamente no buono E va bene così Poi abbiamo Ah qua mi è arrivata un po' di robetta Tipo Anche questi saranno in vendita I Coco Power Ranger Tu 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 Non sono riuscito a prendere quello rosso raga Questo è così Due di questi Che non so perché Ma perché due di tutto ogni volta Dannazione Poi abbiamo Questo blu Per chi lo volesse C'è anche Dovrebbe essere ancora sul sito Se non c'è lo caricherò Oggi Mighty Morphing Blue Ranger Della nostra amica Hasbro Quindi Poi Andiamo A vedere Un po' Anche il resto delle cose Ah Non ci credo Ma io veramente Sono così scemo Ne ho presi tre Tre gialli Che è così Tre blu Ma perché ne ho presi così tanti Raga ma No quattro blu Ma tu sei fuori Voi siete pazzi Ma perché Faccio queste cose E poi abbiamo Due action figure Guardate il pacchettino Bello però Hasbro questo Questo è veramente carino Hasbro Di Indiana Jones Questi secondo me Se ne vanno via come il pane Questi probabilmente Se ne andranno Molto 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 Velocemente Ah eccoci Riders of the Lost Ark Quindi Quella nuova Il nuovo Nuovo film Boh Credo di sì Non mi ricordo Eccolo Quello grosso Sempre bello ammaccato Per colpa dei cuorieri Se vi siete persi L'altro unboxing Andate a vedervelo Perché mi è arrivata La roba di Batman E probabilmente Sarà già uscito il video Della recensione Della Dark Knight Wave Di Batman Di Nolan Allora qui Io mi manda Un po' di robetta Vediamo un po' McFarlane Toys Andiamo ad aprire Sono curiosissimo Vediamo Oddio Allora Sicuramente ci sono Gli spaventapasseri Che mancavano Perché Non di poterli spedire Avevo bisogno Gli spaventapasseri Qui dentro abbiamo Due Batman Di Injustice Che uno è venduto E l'altro No Quindi ne ho prese Doppia copia Perché io ho dei problemi Psicologici Come al solito Ragazzi Come Guardate Questi però belli Sono bellissimi Questi sono veramente Veramente carini Perché c'è dentro Anche il fumetto Tra l'altro Quindi tantissima Tantissima roba Questi li poggiamo Qua Poi Ah Ecco c'è un po' di robetta Quattro scatoloni Differenti Meglio Perché poi devo spedire E non mi danno Le scatole Ok Ah Finalmente Ragazzi Finalmente Non ci posso credere Eccola Finalmente Guardate Guardate qua Batman Ash La statua Di Batman Ash In tutto il suo splendore Bellissima Questo è un pezzo Che spero mi rimangano Perché La vorrei tantissimo Mi piacerebbe tantissimo Tenerla in collezione Di questa Ne ho tre Quindi non vi annoierò Facendovi vedere Le altre due Ok 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 E Vediamo Ok Perfetto Qui ragazzi Abbiamo le altre due Ash Batman Ash Di McFarlane Toys Quindi non ve le tiro nemmeno fuori Se no il video durerà 500 anni e mezzo Poi gli spaventapasseri Ultima scatola Con dentro Teoricamente Tutti gli spaventapasseri Andiamo a vedere Teoricamente Intanto se non l'avete ancora fatto Lasciate un like Supportate il canale Iscrivendovi E cercandoci Anche sugli altri social Vi ringrazio tantissimo Per noi Un'iscrizione È veramente tantissimo Vuol dire tanto Per voi È gratuita È facile E non vi costa niente Voi potete guardare anche il nostro sito MamameloCompri.com Gratuitamente Ogni tanto facciamo degli sconti C'è della roba in stock Cioè raga Godetevi questi momenti Attimi magici Perché poi Quando esploderà la guerra Tutto costerà molto di più La guerra quella vera Allora Pronti Vediamo Eccoci Qui abbiamo I nostri Skullcrow Gli spaventapasseri Che mi mancavano Per completare la wave di Batman E anche questi Tutte sold out 8 9 wave O 10 Non mi ricordo Sold out Che adesso devo andare a preparare Per la spedizione di lunedì E Eccoli Quanti sono Questa è una scatola più Ne un'altra Quindi Saranno un pochino Qua Eccoli qua Eccoli qua ragazzi Ok Benissimo Ora Mettiamo tutto di nuovo in ordine Io Vi saluto E ringrazio tutti quelli Che commenteranno Con qualcosa Se comprate da noi Eccetera Scrivetevi anche in privato E Niente Spero che vi sia piaciuto il video Ci vediamo alla prossima puntata Di MamameloCompri Ciao 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 Ciao